In questo breve video vedremo come inserire in TAC i titoli e il testo. Questa dove siamo davanti è la pagina iniziale di TAC dove ci chiede mail e password. Possiamo anche non inserirle perché TAC funziona anche senza registrazione. Tuttavia senza registrazione non potremo salvare il nostro lavoro. Clicchiamo in alta destra dove c'è l'icona di una matita. A quel punto ci vengono fornite alcune indicazioni su quello che sarà il layout del nostro TAC. Noi scegliamo Blank Canvas. A quel punto si aprirà il testo. Ecco qui. La striscia di controllo di TAC è sempre questa, questa nera, dove c'è headline e testo. Per prima cosa noi dobbiamo modificare un headline, cioè dire un titolo. Sicché clicco su headline ed ecco che mi compare la scritta Your Headline. Posiziono il mouse, clicco e scrivo il mio titolo. Fatto. Poi tramite l'ingranaggio posso eventualmente modificare alcuni aspetti come il colore oppure anche la grandezza del testo. Oppure posso anche tramite il cestino gettare quello che ho fatto per rifarlo. Ora vediamo invece la funzione testo. Quella che abbiamo visto infatti era titolo. Io mi posiziono su text, clicco, si apre una striscia. Questa è una striscia di testo. Io qui scrivo il mio testo. Da notare che qui funziona anche il copia e incolla. E con la stessa logica del titolo io tramite l'ingranaggio posso giustificare il testo al centro, a destra, a sinistra e modificarlo moderatamente tramite il font. In questo modo abbiamo modificato testo e titolo. Se io voglio invertirne l'ordine, vale a dire fare prima il testo e poi il titolo, basta che clicco, ecco qui, in queste piccole frecce. Tramite invece gli strumenti di destra io posso modificare leggermente il tema, ecco qui, tramite appunto l'unità della tavolozza. Se io invece mi posiziono su font posso modificare il font attraverso una serie di preset già preimpostati. E attraverso quest'ultima icona posso modificare i pattern, vale a dire gli sfondi attraverso questi motivi.